Hmm, questo dovrebbe essere appeso qui. No, no, questo invece deve essere girato. Mi piace quando tutto è in ordine. Finalmente nessun disturbo all'orizzonte. Posso riposare un po'. Susan, ecco qui! Ehi, Sio, ma perché hai quella faccia? Vuoi vedere qualcosa di davvero bello? Ah, guardami! Che ne dici di questo vestito? L'ho trovato nella cassa panca di nonna. Sai, potrei prendere qualcosa anche per te. Mi spiace, Sammy, ma stavolta passo. Prova a contattare un'altra modella per il makeover. Una modella? Ottima idea, Sio. Adesso sono pronto per la barba di Mago Merlino. Mi serve una bacchetta. Ma non c'è problema, Internet mi aiuterà a uscire da questa situazione. Ma che cosa devo scrivere? Ehi, Sio, che cosa te ne pare di questo? Stiamo cercando una modella per una completa trasformazione. Ma che cos'è questo suono? Oh, deve essere la prima candidata. Arrivo! Così veloce. Cosa c'è, Sio? Mi sono appena lasciata col ragazzo e voglio cambiare stile. Aiutatemi! Oh, accidenti, non preoccuparti. Ti trasformeremo in uno splendore. È vero, Sio? Insomma, non possiamo lasciarla sola. Credo che non abbiamo scelta dopo il tuo post. Sapevo di poter contare su di te, Sio. Allora, diamo un'occhiata agli strumenti per il trucco. Cosa? Perché non c'è più niente qui? Ok, devo fare una telefonata. Perché andiamo così lentamente? Ma che succede? Potreste sbrigarvi? Ok. Mi squirla il telefono. Pronto? Sam, stiamo facendo un makeover, ma abbiamo finito i prodotti di bellezza. Non preoccuparti, ci penso io. Bene, attenzione. Fate largo. Mi dispiace, mi scusi. Devo chiedere una cosa. Ehi, questo slime salta la fila. Tutti abbiamo bisogno di chiedere qualcosa che credi di essere. Prendo questi, per favore, potrebbe impacchettarmeli? Grazie. In fretta, per favore. Anche questo mi potrebbe fare comodo. Sì, allora, quanto ne devo? Mi spiace per tutti e grazie. Abbiamo un'emergenza? C'è una bambola che ha appena rotto col fidanzato. Oh, è successo adesso. Effettivamente sarà distrutta e anche turbata. Beh, sì. Ok, mettiti in fila, come abbiamo fatto tutti. Amici, ma dove è finita l'empatia? Alla faccia dello shopping tranquillo, eh? Dove sei, Sammy? Il tempo scorre. Credo di averli inseminati. Finalmente, dove sono i prodotti? Scusa, ma è stato terribile. Non so come abbia fatto uscire di lì. Sei stato in quel negozio, ma lì sono sempre cattivi. Sì, hai ragione. Questo pacco è davvero pesante. Chissà che ci sarà all'interno. Allora, ti sbrighi ad aprirlo? Un po' di pazienza, Sammy. Avevo appena cominciato a farlo. Wow, guarda quanti sacchetti. Qui sembra che ci siano delle unghie. Ma la nostra bambola non ne ha bisogno. Veramente le ho preparate io. Ho pensato che ti sarebbero piaciute. Oh, sei adorabile. Ok, cominciamo. Che bel beauty case. Adoro questo colore. E non vedo l'ora di dare un'occhiata da vicino a tutti questi prodotti. Che cosa abbiamo qui? Oh, c'è scritto che è un kit per i brufoli. Interessante. Questo ci servirà senz'altro. Apriamolo con attenzione in questo modo. Ecco fatto. Molto interessante. So a che cosa serve questa qui. Sono strumenti speciali per sbarazzarsi dei brufoli. Diamoci dentro. Oh, ti spoilerò una cosa. Non sarà piacevole. Scusa, lo so, resisti ancora un po', ok? Questa volta farò alla vecchia maniera. Che schifo, effettivamente non è molto piacevole. Ecco qui. Dobbiamo solo rimuovere le crosticine adesso. E ora posso anche cominciare a pulirle il viso. Ma dove sono le salviette? Qui non c'è nulla. Vediamo qui? Neanche. Sammy, dove sono le salviette? Mi sono dimenticata di dartele. Ho dovuto lottare in quel negozio. Oh, grazie, mio cavaliere. Da parte mia è della bambola che presto sarà bellissima. Allora, che ne dici di usarle? Non ancora. No, ma, Sue, ti prego, ho preso queste apposta per te. Dai un'occhiata, almeno. Va bene, apriamola, Sue. Ma questo non significa che ho voglia un makeover. Oh, wow. Ma guarda che unghie fantastiche. È incredibile. Sono bellissime. Ma sono anche molto, molto lunghe. Sì, sono molto comode per grattarsi la schiena o altro. Anch'io vorrei le unghie così. Sai, credo di poterlo fare. Le unghie sono così comode. La vestibilità è perfetta. Oh, posso anche giocare facilmente ai videogiochi. Che cosa ha detto? Davvero? E poi che cosa è successo? Oh, mi ultimidava, ma è scandaloso. Mi piace che vi stiate divertendo, ma quando vi prenderete cura di me. Scusa, ci siamo lasciati trasportare. E cominciamo adesso. Intanto facciamo le sopracciglia con queste speciali strisce. Bisogna fare molta attenzione a non rimuovere troppi peli. Esatto. Au, au! Scusa, so che fa male. Ma adesso... Così. La forma delle tue sopracciglia è perfetta. Vorrei averle anch'io così. Ehi, Siu, posso aiutarti? Devi solo dire sì al makeover. In realtà ci sto ancora pensando. Passiamo al trucco vero e proprio. Cominciamo col fondotinta per rendere la pelle uniforme. Sarà molto divertente. Questo beauty blender è così pratico. Si può anche indossare sulla mano. Visto? In questo modo, ragazzi. È perfetto. Lo useremo per creare un fantastico strato di fondotinta con effetto blur. Non hai dormito abbastanza? Beh, nemmeno io non preoccuparti. Il correttore risolverà il problema. Esatto. Nasconderà la carenza di sonno. Lo applichiamo proprio sotto gli occhi e lo sfumiamo per benino. Così. Siu, come va? Oh, questo pennello è perfetto per il fard. A proposito, proprio qui abbiamo davvero un bronzer. Adesso facciamo un po' di contouring. Metterà in risalto gli zigomi. La consistenza è semplicemente perfetta. Ma dov'è finita la palette viso con l'illuminante e il fard? Adoro gli illuminanti. Ridammelo. Ma non ho ancora finito. Aggiungiamo un po' di fard per dare un aspetto fresco e riposato così. E questo la farà brillare come un diamante. Questa palette è davvero fantastica, la adoro. Quale colore scegliamo? Rosa, naturalmente. Cos'altro potrei dire? Cosa volevi da me? Insomma, io sono tutto rosa. Ho mescolato le tonalità per rendere il colore più brillante. Non dimentichiamo l'eyeliner nero per completare il look. Sammy, mi serve il mascara. Oh, grazie. Ah, la mia spazzola preferita. Funziona davvero. Come puoi vedere, ho fatto un piccolo test. Siu, guarda qui, ho provato anche il lucido. In effetti ti sta bene. Ottima scelta. Questo colore si abbina perfettamente al look finale. Perfetto. Sì, è davvero fantastico. Wow, sei proprio bella. Grazie. Sono lusingata. Ora occupiamoci dell'acconciatura. Completerà la trasformazione. Allora, che tipo di acconciatura c'è qui? Wow, queste codine sono stupende. Ho sempre sognato di avere capelli così. Siu, che ne dici? Come mi stanno? Sei splendido. Ma questi, beh, sono per la nostra ragazza. È come se fossero stati pensati per lei. Le stanno davvero bene. Guarda, ho trovato un sacchetto speciale. Guardiamo che c'è dentro. Ok. Abbiamo una fragola. È una specie di sacchetto misterioso. Chissà che cos'è. Scopriamolo subito. Oh, la fragola sembra molto rara. Finalmente la mia collezione è completa. Questo è proprio quello che mi mancava. Posso averlo? Certo. Wow, non posso crederci, ragazzi. Siete fantastici. Sei sempre la benvenuta. Sì, oggi abbiamo lavorato sodo. È stata una giornata davvero interessante. Sai cos'altro potremmo fare? Ah? Di che parli? Facciamo una sfilata di moda. Oh, cominciamo. Sarò la prima. Torno subito, ok? Quanto devo aspettare? Dammi un attimo. Allora. Questo outfit mi piace molto, ma credo che sia troppo scintillante per la vita di tutti i giorni. Che ne dici? Dico che stai benissimo. Adesso va molto di moda. Ti ho dato 8 su 10 senza esitazione. Ottimo, ma adesso mi devo cambiare. Ciao. Chissà che cosa hai in mente. Ah, questo invece è davvero comodo. Ma non credo di poter uscire così. Oh, forse sì. Non c'è bisogno di uscire. La moda per la casa. Questo prende... 9 su 10! Facciamo un... Oh, una sfilata bonus, per favore. Andiamo, Sue. Tu sono certo che hai qualcosa. Ok, ho un'idea. Questo sembra un po' banale, ma che ne pensi? Questo è il migliore 10 su 10! Ma questo è il mio abbigliamento abituale. Mi vesto sempre così. Beh, ti sta benissimo. Sei perfetta così. Ok, se lo dici tu. Amici, dateci un pollice in su e non dimenticate di iscrivervi. Ciao! Ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao! Ciao! Grazie a tutti